Diciottesima giornata in Serie A, turno infrasettimanale, l'X Latina contro Sandro Abate Avellino Il tentativo intanto Attenzione a Kakà la giocata, la pallalessa Limaggi Ancora Johnny, lancio lungo, c'è Palmegiani che l'aggancia Aggancio spaziale di Palmegiani, c'è Rabol col destro, Molitierno La recupera Johnny, Johnny, Molitierno col petto Rega la palla a Jander, che va via Jander, il sinistro sul fondo Palla fuori, il sinistro al volo di Victor Mello La recupera Johnny, due contro uno, va via Johnny, palla per Palmegiani che non calcia C'è Jander, Molitierno, Victor Mello, lancio lungo, Fantesele la tiene col petto Palla per decrescenzo Victor Mello, Kakà col destro, traversa Gilo, passaggio sbagliato Bebetigno ancora Gilo Poi il destro di Fabiano, la parata di Maggi Palla per Jander, uno contro uno con Fantesele Jander, sul fondo, Fantesele Salta, Gilo va via, Fantesele che mette il turbo Fantesele, Fantesele, Maggi Lancio di Molitierno per Kakà, il colpo di testa sul fondo Finisce il primo tempo 0-0 Riparte la Sandra Abate con Menzeghez Va via Menzeghez, sul fondo Johnny, Gilo, imbucata C'è Fabiano, il destro di Fabiano Il gol della Sandra Abate al terzo minuto con Fabiano Uno a zero Lancio, perfetto per Johnny, Johnny Va da decrescenzo Gilo anticipa tutti, va via Gilo Palla per Aiello, c'è Rabel Il destro, Molitierno Il destro intanto di Jander Va via l'ex fuori grotta Ancora per Fabiano, Fantesele sul fondo Sbaglia tutto Va via Greco Il sinistro di Greco, palo Sbaglia tutto Va via Greco Il sinistro di Greco, palo Greco, il sinistro, Molitierno Cosa ha preso? Riparte Fantesele, il tocco di Fabiano C'è Kakà, Kakà, palla per Fantesele Va via Kakà, attaccato ancora da Rabel Che la recupera Tre contro uno, palla per lo Cicero Palla al centro, Greco Gianluca Greco Il pareggio dell'Atina 1-1 Ancora Menzeghez La giocata su Johnny Menzeghez, il tocco sotto Maggi Con qualche dubbio Va via intanto Palmeggiani C'è Johnny Palla per Ancora per Johnny Gilo aveva attaccato il secondo palo Poi lo Cicero Menzeghez di prima Bebetigno, il tocco sotto Ciclander Il destro Palla alta Ancora Johnny Attenzione con tre contro due Va via Johnny Gander Palla al centro Il gol Di Gander Il passaggio era di Rabel In Latina La ribalta 2-1 Al sedicesimo Incredibile Qui al palo a Bianchini Il gol di Gander 2-1 Victor Mello Fante Sele Kakà Sbaglia tutto La porta è vuota Il destro Di Rabel Che si dimora Il gol del 3-1 Parte Johnny Il destro Palla alta Victor Mello Menzeghez Il sinistro Palla che lambisce il palo Con Kakà Di un passo Dal 2-2 Menzeghez Fante Sele L'imbucata Addosso a Gander Gander Il sinistro Palla Pallo Palla sul palo Fante Sele Bebetigno Kakà Kakà Maggi Victor Mello Finisce qui E' finita Incredibile Il futsal E' uno sport Meraviglioso In Latina Ribalta tutto Ribalta tutto Il pronostico E' il risultato 2-1 Per la squadra Di Lorenzo Nitti 3 punti incredibili Verso la salvezza Passo falso Il secondo di fila Per la Sandro Abbate Bton Bton In Le